Perché me l'hai lasciato fare? Continuo a dire a tutti che dovrebbero andare avanti e crescere. Qualcuni lo fanno. Ma noi no. Sono io. Sono arrivata su Halla quasi morte. Se ci fosse una minima possibilità per formare l'avvento, abbiamo un dovere nei confronti del mondo di provarci. Lei viene via con noi. Tu combatti con le tue lezioni. Con il tuo passato che le alimenta. E ho fatto una mia scelta. Sono spaventata. Questa è la battaglia della nostra vita. Difficile. È sapere che eri lì da qualche parte è troppo testata per morire. Dove siamo? Non puoi immaginare. Sarebbe Gini. Possiamo ancora aiutarla. Sei la ragazza che tu ti abbandona. con la serie. Questo è quello che hai dentro. Ho lasciato mi guardare. Per quello che hai dentro. Etus.